Thomas Markle supplica sua figlia di permettergli di vedere il nuovo bambino Lilibet, suggerendo contemporaneamente che rivelerà questioni private nel trailer del teaser per un'intervista televisiva Bombay Padre separato di Meghan Markle ha implorato di essere perdonato e di poter incontrare sua nipote Lilibet nel trailer per un'intervista esplosiva. Il 76enne, che non parla con sua figlia da tre anni, ha persino minacciato di esporre i suoi panni sporchi, mentre supplicava di vedere il neonato. Meghan ha interrotto i contatti con suo padre dopo che è stato sorpreso a mettere in scena gli scatti dei paparazzi prima del suo matrimonio reale con il principe Harry nel 2018, riporta OK, rivista. Ma in un trailer per un'intervista con 60 minuti in Australia, in onda questa domenica, chiede di essere perdonato per quello che definisce il suo unico stupido errore e dice che è alla disperata ricerca di una tregua. Non le parlo, Meghan. Da due giorni prima che si sposassero, rivela nel teaser di 40 secondi. E alla domanda su dove ha saputo della nascita di Lilibet risponde, niente telefonate, l'ho appena sentito alla radio. Sarò molto deluso di non poter tenere in braccio mia nipote. La voce fuoricampo afferma che Thomas sta mettendo in atto una disperata richiesta di essere perdonato dopo il suo reato prima del matrimonio di sua figlia nel 2018. Ma in una mossa che potrebbe danneggiare ulteriormente il suo rapporto con Meghan e Harry. Aggiunge anche, vuoi panni sporchi? È la prima volta che discuto di queste cose. Thomas aveva posato in immagini presumibilmente preparandosi per il matrimonio reale, tra cui una prova di smoking e la lettura di un libro sulla Gran Bretagna in un internet caffè. Quindi è rimasto lontano nel grande giorno di Harry e Meghan per non imbarazzarla ulteriormente dopo aver ricevuto una cattiva pubblicità in seguito alla pubblicazione delle immagini. Invece di accompagnare con orgoglio Meghan lungo la navata, suo suocero, il principe Carlo, è intervenuto per assumere il ruolo.